Buongiorno, eccoci all'attualità politica. Invece dall'adunata leghista di Pontida, un altro snodo cruciale, importante per quanto riguarda la tenuta della maggioranza. Ieri poi ci sono stati un paio di siparietti su cui ovviamente si soffermano i molti articoli, le molte ricostruzioni dei giornali di questa mattina. Intanto durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il suo ministro dell'interno Maroni, a proposito della domanda sullo stato di salute del governo, Berlusconi ha ribadito queste parole, ha detto che non c'è alternativa a questa maggioranza e se andasse tutto bene Maroni ha detto che ne riparliamo a Pontida. Quindi insomma c'è un distinguo abbastanza netto e si è visto proprio plasticamente con Berlusconi inquadrato al fianco di Maroni. E poi c'è stato un gesto che peraltro caratterizza la prima pagina questa mattina dell'unità del leader della Lega e ministro Bossi, il pollice di Pontida. Non so se riusciamo a vederlo, il gesto di Bossi che secondo alcuni avrebbe messo in ansia ieri il premier, anche qui una domanda dei giornalisti sempre sullo stato di salute e sulla tenuta della maggioranza. Questo gesto ovviamente ha creato nuove fibrillazioni, poi però c'è stata una spiegazione, il gesto era rivolto all'indilizzo dei giornalisti. Buongiorno Matteo Salvini, Lega Nord è collegato con noi da Milano. Qual è la sua interpretazione allora di queste due immagini che io ho dato, cioè le parole di Maroni e il gesto di Bossi? Se posso non commentare l'unità penso che il Paese ne traga solo vantaggio. Bossi fa tanti gesti come io e lei durante la giornata, quindi aspettiamo i contenuti veri, non i gesti, il pollice, l'indice o l'anulare. Per quanto riguarda Maroni è portavoce di quello che è un dibattito che c'è internamente alla Lega tutti i giorni in maniera trasparente e aperta. Chiunque accenda la radio in questo momento su Radio Padanieva si parla del passato ma soprattutto del futuro. E sono curioso anch'io di essere appunti da domenica, anzi già da sabato perché sono sicuro che o ci sarà un cambio di marcia deciso oppure gesto o non gesto la Lega non è fatta per tirare a campare. Senta, lei è il direttore di Radio Padania? Sì. Qual è il leitmotiv, diciamo, il fil rouge delle telefonate, insomma di quello che dice la base leghista quando interviene nelle vostre trasmissioni? Le lamentazioni, diciamo, più importanti di che cosa si occupano? Sulle tre su quattro sono sulle questioni economiche. Penso che a prescindere dall'essere leghisti o non leghisti anche chi ci sta guardando da casa possa avere un dibattito filosofico sulla legge elettorale, su quello di cui si legge sui giornali. Però la questione economica è quella che fa la differenza, quindi soprattutto se visto da Nord noi abbiamo centinaia di comuni gestiti dalla Lega ma anche da altri, gestiti dal cetosista, dalle liste civiche, dal PDL, abbiamo a Nord centinaia di comuni che hanno i conti a posto, che hanno risparmiato dei soldi, non li possono spendere, li hanno chiusi nel cassetto. E quindi è vero che c'è il rigore, la situazione economica, la crisi, l'Europa, eccetera, 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 però il livello di pazienza e di voglia di aspettare per spendere dei soldi nostri, penso che sia arrivato al limite, questo la gente cichede ci parla di busta paga, di cassa integrazione e dell'artigiano che domani mattina non sa se tira sulla sala cinesca. Quindi tutto il resto viene dopo, dalla giustizia, tutto quanto viene assolutamente dopo il tema caldo che è quello economico. Quindi io penso che Bossi, soprattutto di economia, perché quando si parla di ritiro da alcune missioni all'estero di cui non si capisce l'utilità, è un tornaconto dal punto di vista economico innanzitutto da spendere per la nostra gente. Cioè lei dice quello che spendiamo nelle missioni all'estero utilizziamolo in Italia, no? Per le emergenze economiche anche. Beh, qualche altro, gli Stati Uniti lo stanno facendo e ci stanno ragionando, cioè se il democratico Obama che porta pace e benessere nel mondo si pone il dubbio se spendere altri soldi, ad esempio in Libia, se se lo pone il grande Obama, nel piccolo possiamo porcelo anche noi il dubbio di usare in casa nostra una parte dei soldi che stiamo spendendo in 22, se non ricordo male, missioni in giro per il mondo. Le chiedo un'ultima cosa che è già legata a quello che ci diceva, ma mi pare di capire che ci sarà un allentamento del cosiddetto patto di stabilità. Insomma, questi soldi che sono nelle casse dei comuni virtuosi forse potranno in parte essere utilizzati o no? Non c'è un accordo con Tremonti in questo senso o no? Vediamo, adesso iniziamo a fare come il San Tommaso, prima a vedere e poi a credere. Il comune di Calolzio Corte è un comune di 13 mila abitanti in provincia di Lecco e siccome hanno gestito evidentemente bene il comune, i loro quatrini hanno risparmiato 6 milioni di euro che non possono toccare, cioè per la scuola, per la casa, per la strada, per il lampione, non li possono toccare. Non è più possibile, non è più accettabile sacrificare nel nome appunto del patto di stabilità e del fatto che altri comuni hanno fatto dei debiti. Gli elettori della Lega ci hanno dato un messaggio chiaro, in parte non andando a votare, quindi ci hanno detto noi stiamo perdendo la pazienza. A me spiace per chi ha fatto dei debiti da qualche altra parte in giro per l'Italia, si pagherà i suoi debiti se noi abbiamo risparmiato. Noi, ma non dico solo i comuni della Lega, attenzione, parlo di comuni gestiti da qualunque colore politico, se hanno risparmiato dei soldi li spendono perché significa che ci sono comuni che non pagano i fornitori. Cioè se è venuto l'artigiano a cambiare la porta della scuola non è pagato, non può essere pagato e così l'economia si blocca ovviamente. A parte poi i tempi di vagamento biblici, che è un altro dei problemi di questo paese. Allora io, visto che abbiamo cominciato con la maggioranza, coinvolgo subito l'onorevole Enrico Laloggia, che è anche, mi pare, presidente della commissione bicamerale sul federalismo. A sentire ieri le parole di Maroni, lei che sensazione ha avuto? Questo Pontida, che si aspetta da Pontida? Credo che sia una normalissima tecnica, come dire, di propaganda politica. È evidente che anticipare i contenuti di quello che sarà l'intervento di Bossi a Pontida avrebbe di molto sminuito l'importanza della stessa manifestazione. Quindi credo che al suo posto avrei fatto esattamente la stessa cosa e non mi aspetto niente di negativo, se questo è il senso della domanda. Mi aspetto invece una forte richiesta di rilancio dell'azione di governo e i temi sono sostanzialmente quelli che conosciamo, che vanno dalla riforma fiscale al completamento del percorso del federalismo, dal codice delle autonomie all'allentamento, quantomeno allentamento dei vincoli del patto di stabilità. Ma vanno tutti inquadrati nell'ambito di un progetto economico sul quale sta lavorando Tremonti, ma non solo Tremonti, perché ci ha messo a testa il presidente Berlusconi, così come altri ministri, compresi quelli della Lega, naturalmente, nell'ambito dei preparativi di questa manovra che dovrebbe essere oramai imminente, è contestuale o quasi contestuale o comunque in qualche modo coordinata con la grande riforma fiscale. Questi sono i temi principali, ce ne possono essere altri, compreso quello della legge elettorale, naturalmente, sul quale vedo un risveglio di attenzione. Si sta ragionando su questo dalle vostre parti? Si sta ragionando dalle nostre parti, si sta ragionando anche con i nostri alleati della Lega e con il gruppo dei responsabili, ma è evidente che anche su questo bisognerà dire una parola chiara. E certamente se si concretizzasse l'intenzione vera, reale, concreta di andare ad una riforma elettorale, beh, come sempre, sarà bene non farla negli ultimi tre mesi prima della scadenza della legislatura, ma cominciarci a pensare per tempo. Non lo so se questa sarà la decisione, ma è uno dei temi sui quali sicuramente anche la Lega è molto, molto interessata e non escludo che a Ponti da Bossi sull'argomento dica qualcosa. Quando sente parlare di trasferimento dei ministeri al nord o di sfilarsi dalle missioni internazionali, che reazione ha invece? No, io ho una reazione, come dire, per certi versi molto diversa rispetto alla linea formale che ho sentito esprimere da molti esponenti del mio partito. Io sarei addirittura un po' più avanti, diciamo, delle stesse richieste della Lega, in un federalismo compiuto, cioè non oggi e domani, ma non appena sarà compiuto, il fatto che ci possa essere il decentramento di qualche sede istituzionale e decisionale in diverse parti del paese, non necessariamente soltanto al nord, e non soltanto in Lombardia, io non lo troverei affatto scandaloso, penso che sarebbe anche utile spostare qualche ministero al sud e anziché al nord. Si parla di spostamento di sedi di rappresentanza, beh, insomma, può essere soltanto un inizio, quindi questo non solo non mi scandalizza affatto, ma se comprendiamo, e non mi pare che ci sia molta comprensione in giro, vorrei dire che non c'è neanche sufficiente informazione, su che cosa sia realmente il federalismo che stiamo realizzando, a partire dal federalismo fiscale, del quale mi occupo giornalmente. Sì, ma poi le voglio chiedere, come dire, una fotografia dello stato dell'arte del federalismo, visto che se ne occupa così da vicino. Se comprendiamo che cosa è e quale può essere l'enorme vantaggio per il nostro paese, beh, che credo che questi dettagli, che poi alla fine li considero soltanto argomenti di importanza minore, come quello di spostare qualche centro decisionale da una parte o dall'altra del paese, non mi scandalizzerebbe affatto. Va bene, insomma, diciamo, non farebbe le barricate come annunciano invece il sindaco di Roma Le Mano e la governatrice Polverini. Buongiorno all'onorevole Le Luca Orlando, Italia dei Valori. Buongiorno. Diciamo rispetto a quello che ha sentito dire da Salvini e dalla loggia, che dice che insomma non succederà niente a Pontita? Con riferimento a Pontita, aspettiamo lunedì di leggere i giornali, che diranno cosa è accaduto a Pontita, se c'era bel tempo, cattivo tempo, se pioveva, se c'era il sole. Quanto al merito, mi sembra che siamo all'ennesimo penultimatum della Lega, mi sembra che ne abbiamo già visti tanti di questi penultimatum, quelli che vengono prima dell'ultimatum, che sostanzialmente hanno ormai stancato gli italiani. Noi abbiamo seguito 12, ne ho contati, 12 vertici decisivi tra Bossi e Berlusconi, tutti finiti evidentemente con la montagna che partorisce il Topolino. Il tema di fondo è che certamente la Lega oggi è a un vivio, questo è un dato che prescinde da Pontita. Qualunque cosa accada a Pontita, la Lega deve in qualche modo sciogliere questo nodo, che credo sia importante, Bossi si è legato a Berlusconi, e si è legato a Berlusconi fino al punto di non votare all'ultimo referendum, cosa che, come è noto, gli elettori, quelli della Lega hanno chiaramente disatteso, a conferma se ve ne fosse bisogno, se ve ne fosse bisogno che c'è una diversità di comportamento tra il leader della Lega e gli elettori della Lega. Peraltro Salvini stesso parlava di una sofferenza che si è manifestata in una non partecipazione al voto alle amministrative dell'elettorato della Lega. I problemi economici che non vengono risolti e sostanzialmente quel no ai bombardamenti in Libia ormai è diventata una specie di provocazione, perché noi siamo stati l'unico partito che in Parlamento ha detto no ai bombardamenti in Libia, adesso anche il Parlamento americano ha detto no ai bombardamenti in Libia, su proposta appunto dei democratici, e la Lega ripropone in noi bombardamenti in Libia, dopodiché sentiremo dire che i bombardamenti si devono fare un giorno sì e l'altro no, e così abbiamo trovato la quadra rispetto alle politiche estere. Io credo che sostanzialmente su questo tema francamente è un problema della Lega, se vuole sopravvivere, vivere, ovvero se vuole essere trascinata nel precipizio, perché in questo momento il governo, se posso semplificare, Berlusconi e Bossi sono sull'oro di un precipizio, ebbè può darsi che a Pontina Bossi dica andiamo avanti, quando fai un passavanti sull'oro del precipizio evidentemente accederi alla caduta, ma questo diciamo è un tema rispetto al quale si sta assistendo ad una inaccettabile manipolazione delle teorie, delle norme, della logica, ma cosa c'entra il federalismo con lo spostamento dei ministeri in Lombardia piuttosto che in Sicilia? Non c'entra nulla, perché il federalismo è spostare competenze e poteri, non spostare il luogo fisico e il soggetto fisico che esercita la competenza e il potere, il federalismo è togliere i poteri al ministero e darli alla regione, alla provincia, al comune, non spostare fisicamente quella struttura che anziché comporre il prefisso 06, comporre il prefisso 02 o 090, mi sembra che non sia questo esattamente il senso complessivo della logica, da questo punto di vista siamo a un'ennesima forma di presentazione del federalismo che come voi sapete noi siamo l'unico partito di opposizione che ha votato la delega al governo per il federalismo, l'abbiamo fatto con convinzione, convinti come siamo che il federalismo può essere un momento per provocare la responsabilità dei governi locali, Salvini ha ragione, i governi locali che sprecano devono essere colpiti e sanzionati, e se sprecano di più al sud piuttosto che al nord il federalismo serve più al sud che al nord, perché se il problema è maggiormente nel sud serve di più al sud che al nord, il federalismo cioè il principio di responsabilità dei governi locali, ma detto questo parliamo di federalismo, non parliamo di operazioni di depistaggio, noi bombardamenti abbiamo trovato l'accordo un giorno sì un giorno no, e trasferiamo competenze alle regioni, province e comuni, trasferiamo il ministero che continua a fare come prima, quello che faceva prima, forse con un piccolo aumento dei costi, ma questo diciamo è un dettaglio che non interessa la Lega. Grazie Orlando, del buongiorno a Roberto Giacchetti del Partito Democratico, buongiorno, secondo lei come si concluderà diciamo questo step di Pontida? Ma non lo so, io adesso non me ne voglia Salvini perché ovviamente non voglio addentrarmi nei problemi della Lega, io ho la sensazione che in un quadro generale che arriva dai due appuntamenti elettorali, amministrative e referendum, che interessa tutti i partiti per essere chiari, in modo diverso ma tutti i partiti, ovviamente con responsabilità diverse ma tutti i partiti, la Lega si trova a mio avviso per la prima volta ad avere una evidente insofferenza nella sua base, cioè quello che è stato sempre ben o male, una fiducia data quasi senza barriere al leader, alla classe dirigente, frutto anche di una capacità della Lega di fare il partito di lotta, il partito di governo, insomma tutto quello che sappiamo, adesso però anche per la Lega è arrivato non un campanello ma secondo me una fisica, ribellione a una situazione data. A questo punto a mio avviso il bivio che ha la Lega appuntita è se, come dire, mettere in campo un'altra azione che confermerebbe la costruzione di un teatrino diverso della politica da quello che c'era ai tempi di Craxi, De Mita e Forlani, e cioè fatto con il pollice verso piuttosto con i penultimatum e via dicendo, ovvero dimostrare, ma a quel punto secondo me non ci sarebbero molte chance, perché la conseguenza non potrebbe che essere quella di uscire dalla maggioranza e andare alle elezioni e dimostrare che effettivamente ha colto che questo modo di governare non funziona e non funziona non più soltanto per gli elettori di centrosinistra, di centrodestra, non funziona più per gli italiani perché io penso che ci sia stato in questo appuntamento elettorale un abbraccio ideale che va, diciamo, che travalica le parti politiche e le aree geografiche e che dice che di questa situazione non se ne può più. Qual è questa situazione? Una situazione nella quale si continua ad annunciare, come dire, speranze alimentare, speranze fasulle che poi giorno dopo giorno tutti, il leghista come è, il democratico come è, verifino che nella sostanza, in quello che poi materialmente vive, non corrispondono minimamente alla realtà dei fatti e anzi la situazione e la congiuntura, come dire, peggiora quel tipo di situazione. Quindi io penso che Pontida può essere due cose, una opposta all'altra, può essere un momento risolutivo e anche di chiarezza all'interno del panorama politico italiano perché la Lega prende una decisione coerente con quello che sostanzialmente ha detto e lasciato intendere rispetto alla consapevolezza delle ragioni di questa situazione, ovvero un'altra finta mossa che porterà ovviamente a ridare la fiducia nel primo appuntamento che abbiamo, martedì prossimo, sul decreto sullo sviluppo economico, quindi non è Salvini che stiamo parlando di una cosa, martedì si vota la fiducia sul decreto sullo sviluppo economico. Se hai seguito, non lo so se ovviamente magari no perché non è il merito, ma se hai seguito il dibattito sul decreto sullo sviluppo economico, ecco, è una bella fotografia dalla quale capire qual è il grande cambiamento che ci aspetta nelle misure che domani, non ieri, domani il governo deve prendere. Allora, cito da Repubblica di oggi le parole del sindaco di Gemonio che da quello che racconta quest'articolo si è iscritta alla Lega da poco, nonostante insomma credo sia il suo secondo mandato, non vorrei sbagliare, poi eventualmente Salvini mi corregge, si chiama Felli, si chiama Fabio Felli che ha detto, usando una metafora queste parole, un conto è se sei bene in sella al cavallo con le briglie in mano, altro conto è se il cavallo sbanda e ti porta dove vuole lui, in questo caso è meglio scendere dal cavallo, inutile specificare chi sia il cavallo, cioè Berlusconi. Buongiorno a Ferdinando Dornato dell'Udc, lei che cosa pensa allora di questo snodo di domenica? Ma guardi, io più che appuntita credo che l'Italia devo guardare a Bruxelles, perché quello che farà la Lega avrà una sua importanza, ma lo vedremo lunedì, Bossi deve decidere se finire la sua esperienza politica assieme al cavallo, che una volta era cavaliere, quindi c'è stato già un passo indietro, oppure se la sua leadership nella Lega deve andare avanti oltre quella di Berlusconi che è già finita. Ma proprio per questo il problema è guardare a Bruxelles, cioè io credo che sia ora che gli amici di tutte le forze politiche capiscano che quello che noi abbiamo proposto oramai quasi un anno fa non è un capriccio, una voglia nostra di lanciare schemi, ma è la pura e assoluta necessità di questo Paese, un governo di unità nazionale, un governo in cui si abbandonino le risse e le contrapposizioni forzate, finte, fasulle che gli cittadini hanno detto chiaramente nelle due tornate elettorali di non voler più vedere neanche dipinti sulla faccia della politica italiana. Adonato mi scusi, non l'interroppo così poi c'è la pubblicità, riprendiamo da qui così può spiegarci meglio senza la fretta del... Assolutamente sì. Allora torniamo da Adonato che ci stava parlando del governo di unità nazionale, ma io mi chiedo mi scusi, se Berlusconi non fa un passo indietro e se la maggioranza tiene come si fa questo governo di unità nazionale? Beh ma uno non è che deve cessare di dire la verità se ci sono davanti persone che non la vedono, l'importante di chi fa politica può aver torto o può aver ragione, ma è dire quello di cui è convinto, noi siamo convinti di questo perché, e gli italiani ce lo chiedono a nostro avviso, la politica deve mostrare in questa fase, diciamo la verità, drammatica della vita delle famiglie, delle imprese, delle persone, di essere unita nel nome dell'interesse nazionale, non di dividersi per chi deve occupare le poltrone, ma l'abbiamo capito o no che è questo il messaggio che arriva dagli italiani, è qui che si misura anche questa generazione di politici, non parlo della generazione che ha guidato finora, è fallita quella generazione, non c'è più, gli italiani sono oltre, allora bisogna vedere se la politica corrisponde a questo oltre degli italiani, quanto tempo possiamo perdere ancora aspettando Pontida a guardare i pollici, prima agitavano gli indici e c'è un passo avanti, ma voglio dire quanto tempo per accorgerci che le imprese e le famiglie sono travolte dalla crisi, che l'Europa sta rischiando di fallire come progetto comunitario e se fallisce l'Europa come progetto comunitario, non è che l'Italia ne sia essente, allora occorre fare misure, girano le cifre, 40 miliardi, un anno, due anni, forse tre anni, fino al 2015, e allora chi può prendere queste misure? La sinistra da sola? Mettiamo in guardia gli amici del PD da costruire, travolti da un'euforia forse ancora ingiustificata, una nuova gioiosa macchina da guerra. La destra da sola? Il centro da solo? No, non è possibile. Ci vuole un periodo in cui tutta la politica capisce che è ora di prendere misure, senza che nessuno speculi. Quante volte abbiamo sentito parlare, guardi parlo solo dell'ultimo anno e mezzo, di rilancio dell'economia, di scossa dell'economia, di frustata dell'economia, di riduzione delle tasse, ma magari, ma non è solo il problema della riduzione delle tasse, bisogna prendere l'agenda del governatore Draghi, quella che ha citato punto per punto nell'ultima sua... Lo diceva l'altro giorno Fini, non mi pare questa intervista al Corriere, cioè ripartiamo da lì. È una linea del terzo polo, non di Fini, soltanto è di tutto il terzo polo. Prendere questa agenda, le relazioni che ha fatto l'ultima relazione per diventare presidente del Biccome? Draghi vi copia. O loro si ispirano a Draghi, vuol dire, no? Ha dato un'agenda, quella è l'agenda che noi tutti dobbiamo prendere, avendo come principale preoccupazione quello di salvare oggi il futuro dei giovani, perché questo sta diventando un paese per vecchi, che litigano tra l'altro tra loro, mentre nessuno guarda al futuro e che significa misure precise, a difesa dei precari che ne dica Brunetta, perché è giusta la flessibilità del lavoro, ma non può essere solo vista nella fase di ingresso, bisogna anche capire che se uno accetta un contratto flessibile deve guadagnare o al pari o di più di chi ha un lavoro sicuro. Faccio solo un accenno, ma per dire che c'è un quaderno di misure da prendere, guardando a un orizzonte che è di salvezza dell'Italia e qui invece si continua a litigare e si aspettano raduni per capire il futuro dell'Italia. Lì si capirà il futuro della Lega, non dell'Italia. Si capirà se la Lega vuole stare nel futuro dell'Italia o non vuole starci, ma questo è un problema che riguarda la Lega, noi dobbiamo guardare tutti insieme al fatto che bisogna cambiare registro, cambiare passo, dare una svolta, nulla può rimanere come prima, questo ci hanno detto gli italiani e se noi vogliamo fare il nostro lavoro meritandoci il consenso degli italiani dobbiamo capire i loro messaggi. Ecco una parte di quello che lei diceva, alcune delle sue parole sono in qualche modo in consonanza con quanto dice oggi in un'intervista a Repubblica Roberto Saviano, dice a proposito dei risultati delle amministrative del referendum, un popolo si è messo in marcia, la politica si lascia contaminare dai nuovi colori dei movimenti, chi vuole cambiare ha saputo unirsi. Buongiorno a Silvano Moffa, neoportavoce di iniziativa responsabile, non so se ha già assunto l'incarico mi pare tra qualche giorno. Il capogruppo, non di portavoce. Capogruppo, mi perdoni. Allora io volevo un suo commento a quello che abbiamo già detto ma anche a quello che diceva Dornato. Insomma, bisogna capire che qui sta cambiando tutto rapidamente e i partiti forse più da una parte o dall'altra non intercettano più questa necessità, questo bisogno degli italiani o no? Ma guardi, lei ha citato poco fa questa parte dell'intervista di Saviano. Io l'altro giorno in Parlamento, intervenendo sul problema delle province che poco fa è stato richiamato a proposito di razionalizzazione del sistema dei poteri locali, ho ricordato un commento all'indomani del referendum fatto dal professor De Rita, il quale ha detto secondo me molto lucidamente, ha vinto il vento dell'opinione, ma per governare ci vuole la politica. Ecco, io credo che bisogna avere il coraggio di capire dov'è il nostro problema. Il problema è nel recupero di una centralità della politica, di una qualità della politica e di una proposta politica che serva l'Italia ad uscire dall'impasse nel quale si trova. Io comprendo le posizioni che ogni partito ovviamente cerca in qualche modo di ribadire anche nella circostanza di stamane, però c'è un dato adornato. Il dato è che noi dobbiamo avviare una fase sicuramente molto più incisiva per quanto riguarda le politiche di governo, per affrontare quei temi che evocava poco fa Salvini, che sono soprattutto i temi economici, la necessità di superare almeno parzialmente il vincolo che deriva da un patto di stabilità, rimettere in marcia l'economia, sostenere le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, nello sforzo che stanno facendo rispetto ad una crisi profonda, epocale, finanziaria, globale, di innovare, di riorganizzare il proprio management, di fare in modo che il proprio prodotto torni ad essere competitivo, alimentare parte di quella ricerca che non possiamo assolutamente mettere da parte se vogliamo ricreare una competitività del sistema paese e intervenire liberando alcune briglie della burocrazia che sono esattamente quelle che bloccano il nostro paese. Allora rispetto a queste cose, al di là di Pontida, io guardo con grande rispetto all'analisi che la Lega sta facendo, anche rispetto al suo elettorato, però ripeto, il vento dell'opinione è importante perché lancia dei segnali, ma poi c'è la politica e la politica non è fatta di raccogliere il ribellismo e la protesta in quanto tale, bisogna poi fare in modo che questa protesta sia canalizzata in una proposta politica decente, importante. E quindi voglio fare una domanda, ma questa maggioranza di cui voi fate parte è in grado di rilanciare adesso l'azione di governo, soprattutto riguardo le misure di politica economica che mi pare sia più stringente? Ma esattamente quello di cui stiamo parlando in queste settimane e in questi giorni. Non si fa tutto attraverso un unico atto e un'unica iniziativa legislativa. Qui dobbiamo aver chiaro quello che deve essere il disegno strategico complessivo per tirare fuori l'Italia dai guai nei quali sta, per problemi anche indotti da scelte anche europee, da problemi indotti dalla crisi economica finanziaria. E allora avremo fra qualche giorno il primo decreto sullo sviluppo economico, avremo fra non molto al termine di questo mese la presentazione dell'altra manovra finanziaria importantissima sulla quale ci stiamo concentrando per capire esattamente dove intervenire perché dobbiamo in qualche modo mettere insieme quella esigenza di rigore che giustamente rivendica Tremonti come elemento importante che ha dato all'Italia la possibilità di tenere rispetto ad altre economie nazionali, pensiamo alla Grecia ma pensiamo anche al Portogallo, alla stessa Spagna e nello stesso tempo mettere in moto quelle energie positive che possono finalmente disincagliare quella parte di economia bloccata per renderla virtuosa, è capace di incidere sullo sviluppo, di rimuovere il nostro PIL perché non c'è possibilità di aumentare anche livelli retributivi decendi se non mettiamo in moto un'economia, se non chiamiamo nuova ricchezza. Ancora ieri la Banca Centrale ha detto giocate a carte scoperte, cioè spiegateci quali sono le misure per arrivare alla parità di bilancio entro il 2014. Certamente, è esattamente su questo che si sta misurando il governo. Io credo che ci voglia la capacità di capire qual è il livello dei sacrifici sopportabili ma bisogna anche fare in modo che non si vadano a colpire soprattutto le fasce più deboli della nostra popolazione e si faccia anche una gerarchia di interventi. Oggi noi sappiamo che bisogna soprattutto intervenire sulla occupazione giovanile che è quella che più ci angoscia, sulla occupazione femminile. Mentre noi parliamo, in Parlamento, spesso si dice che il Parlamento è fermo, io posso testimoniare facendo il Presidente della Commissione Lavoro che lì ci sono argomenti e ci sono proposte di legge anche di natura trasversale, partecipate anche dall'opposizione, dove stiamo ragionando su quelli che sono gli interventi possibili per dare una risposta al problema della disoccupazione giovanile, per esempio per sbloccare in parte il turnover, per fare in modo che ci sia una nuova vitalità che consenta di respirare alla nostra economia le famiglie italiane. All'interno del centro-destra stiamo tornando a parlare con grande insistenza entro quali limiti si può avviare il quoziente familiare che so essere un tema comune anche ad alcuni che stanno qui intorno a questo tavolo, ma evidentemente quando dicevo all'inizio bisogna ritornare alla qualità della politica, io credo che al di là delle formule, perché comunque fin quando c'è una maggioranza credo che il Governo abbia il diritto e il dovere di andare avanti, abbia il diritto e il dovere di individuare un percorso e di presentarsi in Parlamento in maniera chiara, quindi al di là delle formule io credo che se c'è volontà di dare una risposta all'emergenza del Paese, le forze politiche di opposizione dovrebbero cogliere questa opportunità e non trincerarsi dietro un anti-berlusconismo ormai ripetitivo che non serve assolutamente a niente e a nessuno. Giacchetti, voi presenterete una mozione di sfiducia la prossima settimana? Sì? No? Forze? Non mi pare all'ordine del giorno, tra l'altro la fiducia il Governo ce l'avrà il giorno prima, quindi il problema mi pare che sarà superato anche per questo, comunque lo vedremo, lo decideranno i gruppi. Però mi lasci dire anche rispetto a quello che diceva adesso Moffa, benissimo, ci sono tante proposte di legge, guardate il problema è sempre lo stesso, che sono queste proposte di legge a volte trasversali o meno, sono vagoni che partono, fanno il percorso parlamentare e arrivano al momento decisionale vuoti, perché arriva la mannaia del Ministero dell'Economia che ti dice non c'è copertura, non c'è una lira. Quindi anche questo secondo me è un modo con il quale noi dobbiamo smettere di ingannare la gente, perché se noi continuiamo a evocare delle cose che sappiamo perfettamente, che poi non arrivano, creiamo un'aspettativa e di fatto poi le pigliamo anche in giro, anche in questo deve cambiare la politica. E mi riallaccio a quello che diceva anche Adornato e vorrei dire un'altra cosa a Salvini, io penso che sia giustissimo quello che diceva Salvini rispetto al fatto di stabilità dei comuni. Salvini, non c'è stata manovra economica, provvedimento economico finanziario che è arrivato alla Camera nel quale non ci fosse un emendamento delle opposizioni da tre anni a questa parte che chiedesse esattamente questo, e cioè che fosse, come dire, si saltasse il patto di stabilità nei comuni che hanno rispettato i parametri. I esposi diciamo, sì. Quegli emendamenti sono stati bocciati con il voto decisivo della Lega, anche sollecitata se vuoi, anche provocatoriamente dall'opposizione e via dicendo. Quindi a me ovviamente fa molto piacere che adesso la Lega, come dire, prende atto che anche probabilmente questa è una delle ragioni di insoddisfazione, ma quando io prima parlavo del fatto che noi rischiamo di fare, come dire, delle ragioni per cui non si è sbloccato prima quel patto di stabilità, come si fa adesso a pensare che si sbloccano? Cosa è intervenuto? E allora perché non l'avete fatto prima? Perché se l'aveste fatto prima probabilmente oggi saremo in una condizione diversa. Quando dico che dobbiamo essere tutti un po' più credibili, Salvini, e più giudo veramente su quello che dice la Tornata, è che noi abbiamo davanti un anno e mezzo. Io non è che dico in assoluto che quello che dice la Tornata non è giusto, anzi dal punto di vista, ma in Grecia che cosa è successo? Che un signore che era al governo con quello che è successo in piazza ha detto, sentite, sapete che c'è? Per cercare di aiutare la situazione io faccio un passo indietro e rimetto in discussione tutto. Beh, non siamo la Grecia mi viene da dire però, no? No, sto dicendo però che in determinate situazioni, se Nando dice e fa tutto questo bel raggiamento dicendo noi non dobbiamo pensare a Pontita, la Manfrina, vi dicendo ma le cose serie che abbiamo davanti, purtroppo c'è un presupposto che in questo momento tutti sappiamo non esiste, cioè Berlusconi non fa un passo indietro ed è del tutto evidente che con un governo che ha fatto quello che ha fatto in questi tre anni è impossibile pensare... Ma perché tu hai capito che io dicevo di allargare questo governo? No, sto dicendo... E la condizione di quello che io dico è il passo indietro di Berlusconi, ho detto che è finito, più chiaro di così. Sto dicendo esattamente che è la condizione, sarebbe ovviamente quella di fare da qui un anno e mezzo... L'altro giorno Fidi ha definito... No, sto dicendo che però quella condizione è un macchino... E noi andremo a buttare con questa proposta qui... No, l'aveva definito un atto d'amore per l'Italia, Fidi l'altro giorno mi pare, a proposito del passo indietro di Berlusconi... C'era Orlando che voleva parlare, però Salvini voleva una replica credo a quello che diceva Giacchetti per esempio. Ma guardi, ho sentito la celebrazione dei funerali della Lega, porto sempre fortuna, ci hanno già dato per morti tante volte in passato, io sono sicuro che Pontide innanzitutto, prima ancora che un evento politico è un modo per ritrovarsi e questo ci fa bene, io ieri sera sono andato a sentire il concerto di Vasco a San Siro, la musica può piacere o non piacere però quando hai 50.000 persone che ti trasmettono emozione è un evento che fortunatamente o sfortunatamente tanti altri partiti non hanno, noi ci troviamo, ci guardiamo in faccia e ci parliamo, altri hanno la televisione, si parlano in televisione comunque ognuno usa gli strumenti che ha a disposizione, ma io non sto a replicare, guardi, noi stiamo cercando di tenere unito il Paese, sacrificandoci noi per primi e chiedendo sacrifici al nord per primo, stiamo cercando di farlo con il federalismo, aiutando i comuni in difficoltà, quindi avendo dato in passato soldi a Roma, soldi a Catania, io so che ad esempio Luco Orlando fu sindaco di Palermo, ecco a leggere i giornali Palermo e non distingue i colori politici, ci sono gestioni di destra, gestioni di sinistra, però alcune gestioni allegre al sud sono ai limiti della bancarotta, noi abbiamo due scelte, noi abbiamo due scelte, scelta numero uno, chi se ne frega, il Comune di Roma ha 9 miliardi di euro di debiti, le gestioni precedenti, Rutelli, Veltroni, hanno lasciato lì sul tavolo un buco largo 9 miliardi, io ho due scelte, io sono di Milano, non ho 9 miliardi di euro di debiti, scelta numero uno, chi se ne frega, hanno fatto i debiti, se li pagano, non hanno i soldi per far circolare gli autobus a Catania, a Roma, a Napoli, a Palermo, vanno in giro a piedi, scelta numero uno, semplice per me, per me della Lega Nord è semplice, perché io a Cuneo o a Verona non ho i debiti, non abbiamo fatto i debiti, scelta numero due, visto che sto in una maggioranza, visto che sto in un paese che si chiama Italia, visto che voglio provare a cambiarlo tutto, da Bolzano a Lampedusa, gli do ancora una mano, però non posso essere accusato, e qua lo dico a Giacchetti, attenzione a tirar troppo la corda, perché noi stiamo dando il massimo della nostra disponibilità politica ed economica per tenere insieme il paese e il federalismo a questo è portato, se però la nostra gente ci dice, sai cosa c'è, dovete fare più in fretta, e se a Catania hanno dei debiti, chi se ne frega se li pagano loro, attenzione perché è facile la via, è facile la via per noi, dire ad oggi, è il 17 giugno, bene oggi, domani anzi alla 7, in onda, analizziamo i bilanci di tutti i comuni d'Italia, chi ha il segno più davanti spende i soldi che ha, chi ha il segno meno davanti, chi se ne frega e buonanotte, sarebbe molto facile, noi ci stiamo facendo carico anche di quelli che hanno il segno meno davanti, ci stiamo provando, ce la faremo? Non lo so, ce la stiamo mettendo tutta, se il governo salta mi spiacerebbe perché tre anni di lavoro su questo saltano, e quindi tutto il lavoro sul federalismo fiscale di cui parlava la loggia va a farsi benedire e il Sud, che è il primo a beneficiarne, ricomincerebbe da capo, però attenzione perché io sono donatore di sangue, però un donatore di sangue può andare una volta ogni tre mesi a donare 400 centimetri di sangue, non può donare tutti i giorni, altrimenti crepa anche il donatore di sangue, quindi non so cosa succede a Pontida, è chiaro che non cambiano i destini nel mondo domenica a Pontida, anche se ci sarà un mare di gente, ci sarà il sole e la Lega non muore alla faccia dei gufi, leggo delle interpretazioni veramente incredibili, detto questo, attenzione a tirar troppo la corda perché noi ci stiamo sacrificando anche perdendo voti per strada, nel nome del paese che si chiama Italia, se ci si chiede o se ci si dice che non c'è spazio per questo cambiamento, che io ho dei soldi a Catania ma l'anno dopo sia un punto a capo, o a Palermo o a Napoli, attenzione, è facile dire no, e qua chiudo e mi scuso, è facile prendere i voti dicendo no, ieri il sindaco di Napoli ha detto non facciamo il termo valorizzatore, bene, non mi mandate un etto di rifiuti napoletani al di fuori di Napoli però, perché a meno che San Gennaro e Padre Pio intervengano, a meno che se li immagino i rifiuti, Salvini l'ha visto il titolo del mattino, schiaffo della Lega, Napoli affoga, salta l'esame del provvedimento in Consiglio dei Ministri, corsa contro il tempo per accordi con tre regioni, l'ira di De Magistris. Mi scusi, adesso io faccio gli auguri ai De Magistris, ai Fassino, a Pisapia, io alle 10 incontro Pisapia e da Mielanese spero che lavori bene, però fino a ieri hanno preso i voti dicendo no, se il primo atto del sindaco di Napoli, non mi permetto di dare lezioni in casa ad altri, però c'è un piccolo problema di rifiuti, è no al termo valorizzatore, allora o i rifiuti spariscono con la bacchetta magica o se li mangiano o non pretendano dicendo no al termo valorizzatore e non mi dicano che fanno la raccolta differenziata in 15 giorni perché siamo alle comiche di Ben Hill, non pretendano di mandare a nord un etto di rifiuti se non fanno il termo valorizzatore, questo per dire che la pazienza padana è al limite. Sì, ma questo mi sembra che sia emerso chiaramente dalle sue parole, la loggia e poi Orlando. Sì, ma intanto è inutile dire che sono assolutamente d'accordo con Salvini, tornerei un attimo sul federalismo perché è esattamente il cuore di questo problema che stiamo affrontando. Quando si dice che il federalismo farà male solo agli amministratori spreconi, per non dire peggio, si dice esattamente la cosa corretta, se entrano 100 euro e ne escono 150 per mettere su consulenze, sprechi, cene e quant'altro e nel frattempo poi si dice mancano le risorse necessarie per l'assistenza agli anziani anziché l'asilo nido, cara mamma Roma pensaci tu, allora bisogna cominciare a cambiarla totalmente questa cultura e io dico a partire dal sud, ma non è che nel nord… Da uomo del sud dici che dico a partire dal sud. Nel nord ci sono anche situazioni di questo genere, ma dico a partire dal sud, allora se si pensa che ci sia la possibilità di continuare a creare norme, regole e quant'altro e poi presentare il conto al Ministero dell'Economia, rispondo pure a quello che diceva Giacchetti, ma ci fosse un disegno di legge in Parlamento che dice tagliamo questo, tagliamo quello, tagliamo quell'altro perché è una vergogna che si continuano ancora a buttare i soldi in questa maniera? E da questi risparmi si agevoliamo la riforma fiscale, il cosiente familiare, le famiglie numerose, la redistribuzione dei distributi nel nostro paese, la differenziazione delle aliquote fatte in maniera diversa, ma ci fosse una proposta da qualunque parte, certamente dal centro-sinistra non ho mai letto nulla di questo genere e per quello che ci riguarda faccio anche un minimo di autocritica. Voi le province non volevate tagliarle, ad esempio? Le province non volevate tagliarle, ad esempio? Ma questo è uno degli argomenti, io se vuole la mia personalissima opinione, non le taglierei tutte, ma tutte quelle che sono al di sotto di 300-400 mila abitanti, sì. Ma siccome questo, mi scusi, è un coro ormai, ma perché non si comincia allora? Perché purtroppo su questo non si è riusciti ancora. Io non è che devo ogni volta ricordare la famosa frase di Churchill, del quale diceva che non esistono leggi perfette per la semplice ragione che bisogna trovare una maggioranza che le approvi in Parlamento. E voglio dire, saggissime parole, io non ho mai visto da quando sono in Parlamento un disegno di legge che entri in un modo ed esca migliorato dal Parlamento. L'abbiamo visto sempre. Però mi scusi, il discorso della copertura è un'altra cosa, no? Il discorso della copertura però è un'altra cosa. No, la cosa della copertura, io vado al discorso di Giacchetti dicendo, ma ci fossero disegni di legge a tagliare. Il problema è che arriva il ministro, giustamente, dell'economia dal subito, a spendere, a spendere. Non ci possono essere le proposte di legge non coperte, è che non vi piace la copertura. Avete messo la fiducia su tutti gli interventi seri del Paese. Il problema è che quando le coperture si trovano serie e concrete è un conto. Ma non è che lo stabilisci tu se sono serie e concrete. Ognuno avrà il suo modo di intendere la serietà concrete. Ho capito, c'è anche un minimo di buonsenso. Quindi arriva il governo e dice no. Qua è che stiamo discutendo come se non fossimo venuti da tre anni di crisi economica internazionale, la più grave degli ultimi 80 anni. Allora, siccome è così ed avere tenuto i conti in ordine, avere assicurato gli ammortizzatori sociali, la coesione sociale, avere fatto una serie di riforme importanti, tutto questo viene come sempre messo nel cestino perché non serve a nulla. non è così. Abbiamo fatto un'opera assolutamente meritoria, attendiamo proposte per dire, con la premessa, quello che avete fatto è stato fatto bene, vediamo in che modo riusciamo a fare meglio insieme, se no anche la proposta, come dire, un po' forse troppo ottimistica dell'amico adornato è purtroppo basa su poco. Qual è la base? La base è collaboriamo su progetti seri, su alcuni argomenti seri, confrontiamoci nel merito, troviamo le risorse che quando ci sono, se ci sono, ce le inventiamo, se fosse necessario inventarsene, ma è inutile andare col presupposto, prima va via Berlusconi, poi ci sediamo. Mi permetto di dire che questa è una roba, non da Prima Repubblica, da antifascismo, c'è una roba ottocentesca, ma finiamola con questa storia. Ci fermiamo con la pubblicità, ti prendiamo con Orlando. Grazie. Luca Orlando, ma Berlusconi deve rimettersi o no? Da ora, è dal 2008 che dovrebbe rimettersi. Sì, però siete stati un po' più cauti, no? Il leader del suo partito l'altro giorno dopo il referendum mi pare fosse stato più cauti. Io proverò a rispondere a questa domanda, però vorrei prima coprire lo spazio di un'ora che mi separa dall'inizio della trasmissione, adesso, per fare qualche considerazione. Come ha detto, ci lascio una memoria scritta. Lascerò un testo scritto, come si fa, come purtroppo se siete a fare in Parlamento, quando pongo la fiducia cosa fai? Consegni lo scritto. No, intanto, Salvini diceva, noi diamo soldi a Catania per coprire i buchi derivanti dagli sprechi. Bene, questa è una cosa che si può fare, che è giusto fare, ma possiamo chiedere che si applicano sanzioni a confronto agli amministratori che hanno fatto quegli sprechi? Perché invece questi rimangono al loro posto e fanno gli sprechi anche l'anno dopo, costringendo ancora una volta lo Stato a fare Bancomat e gli sprechi a continuare. Voglio ricordare a Salvini, che non è un dettaglio, che quando ero sindaco di Palermo, l'amministrazione comunale di Palermo aveva il rating finanziario MUDIS a tre. Auguro a molte città e regioni del nord di avere la stessa credibilità e trasparenza finanziaria che aveva il comune di Palermo, il che dimostra sostanzialmente che se tu hai un'amministrazione corretta e i conti trasparenti, alla fine i bilanci sono anche in ordine. Certo, se poi sprechi e poi sai che arriva uno Stato che ti copre gli sprechi e chi ha fatto gli sprechi non paga, evidentemente diventa finanza allegra. Ma io vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale, prima di rispondere ovviamente alla domanda. La prima, siamo in una condizione di crisi? Siamo in una condizione di emergenza? Qui si ha l'impressione che tutti pensano alle prossime elezioni. Vogliamo provare a pensare, seguendo le indicazioni di De Gasperi, alle future generazioni. Cioè qui si ha l'intervento che tutti fanno sostanzialmente, gli scippatori a chiappe e fuggi, uno spot piuttosto che un altro. Ma c'è qualcuno che pensa al futuro di questo paese? L'agenda Draghi. Ma quale agenda Draghi? Lo dico ad addornato. È l'agenda europea. Draghi traduce in italiano quello che dovrebbero fare qualunque paese che sta in questa Unione Europea e diventa l'agenda Draghi perché evidentemente lo dice Draghi, ma lo dice tutta Europa. Lo ha detto autorevolmente e con forza. Lo dice tutta Europa e lui traduce in lingua italiana quella che è l'agenda europea. L'ultimo aspetto di questa premessa si riferisce soltanto all'interesse nazionale. Io dico adornato che l'interesse nazionale deve ispirare la vita politica e non può diventare un governo. Perché un governo di interesse nazionale sostanzialmente è veramente una cosa drammatica ed è quello che ci hanno chiesto gli elettori. Da un mese a questa parte, e vengo alle dimissioni di Berlusconi, da un mese a questa parte, prima con le elezioni amministrative di primo turno, poi col balottaggio e poi col referendum, gli italiani non hanno fatto vincere la coalizione di centrosinistra. Se qualcuno di noi pensa di interpretare quello che è accaduto, secondo i vecchi criteri interpretativi, per cui a Torino, a Milano, a Trieste, a Napoli, a Cagliari, ha vinto il centrosinistra ed è fatta e sarà così in eterno, non ha capito il messaggio che viene dall'elettorato. L'elettorato ha chiesto di poter partecipare alle scelte e di partecipare alle scelte con le primarie, di partecipare alle scelte con il referendum, disattendendo l'invita a non votare di Bossi e Berlusconi e con il web. Vogliamo renderci conto che web, primarie e referendum, che erano considerati figli di un dio minore, si va bene il referendum, si va bene le primarie, si va sono il motore trainante della partecipazione. Da questo punto di vista, ieri, assieme con Antonio Di Pietra, abbiamo incontrato decine di giornalisti alla stampa estera per spiegare esattamente quello che sta accadendo, per spiegare le dimissioni di Berlusconi, la richiesta di dimissioni di Berlusconi. Che cosa voglio dire? C'è l'avanguardia di Barcellona che ha attitolato una pagina intera, dedicato a una pagina intera, dicendo in Italia, gli indignados hanno partecipato al voto referendario. Cioè non sono scesi nelle piazze ma hanno partecipato. Esatto, abbiamo dato un canale istituzionale, vogliamo cogliere questo messaggio, vogliamo capire che i cittadini alle amministrative, piuttosto che al referendum, si sono dimostrati più avanti rispetto ai partiti. Vogliamo appendere la elezione o vogliamo invece continuare come se nulla fosse accaduto, pensando di immaginare di imporre candidati piuttosto che eletti con questa bruttissima legge elettorale. E veniamo a Berlusconi nelle sue dimissioni. Noi chiediamo dal 2008 che Berlusconi se ne vada, ma non siamo così sciocchi di dire il giorno dopo del referendum quello che dicevamo il giorno prima. Noi abbiamo detto che questo referendum non era un referendum per cacciare Berlusconi, perché noi Berlusconi vogliamo cacciarlo a prescindere dal referendum per come ha male amministrato il Paese. Da questo punto di vista però non possiamo non esprimere apprezzamento per il fatto che finalmente gli italiani hanno partecipato non soltanto a eleggere dei sindaci, come hanno eletto, ma anche di dare indicazioni per le future generazioni. Perché il no al nucleare è pensare alle future generazioni. L'acqua pubblica è pensare alle future generazioni e il dire no alle leggi a De Persona è il pensare alle future generazioni. Donato, voglio riprendere con uno slogan quello che ha detto, se sono corretto, poi lo Luca Orlando mi dirà se è giusto. Diciamo ha detto, il centrodestra da amministrativa al referendum ha preso, come hanno detto i leghisti, due sberle, ma non ha fatto le carezze al centrosinistra. Insomma, questo potrebbe essere la sintesi. Eh sì, l'ho già detto io prima. Vorrei insistere su questo. È chiaro ed evidente che l'interesse nazionale dovrebbe, ma sottolineo quattro volte, dovrebbe animare qualsiasi atto della politica. Ma sta di fatto, se non vogliamo essere ciechi, che questo bipolarismo, così come è stato costruito in Italia, è 16 anni che sceneggia una guerra civile, virtuale, ideologica, politica, di bande di potere, di lotte che non hanno a che vedere con gli interessi degli italiani. E allora cos'è che diciamo noi? In primo luogo per le esigenze dell'economia che non possono più essere disattese e della difesa delle persone che stanno a disagio e della difesa del futuro dell'Italia, occorrerebbe che le forze politiche animassero la concordia, non la risse. Secondo, siccome questa seconda Repubblica non ha funzionato, un governo di unità nazionale potrebbe anche essere quella fase, rappresentare quella fase costituente che finora non c'è stata. Questa è la nostra idea. Non la si vuole accogliere, non siamo così miopi da non vedere, quello che diversi di voi hanno detto che non ci sono le condizioni, ma proprio perché non ci sono le condizioni bisogna cambiare questa classe politica, perché è una classe politica che non vede oggi, non dopo le prossime elezioni politiche, la necessità di quello che sto dicendo. Ma chi la cambia questa classe politica? Mi scusi la banalità della domanda. Ah beh, se non c'è l'auto capacità di capire questo bisogna andare a votare, ma noi lo diciamo da tempo che bisogna andare a votare, ma non è che abbiamo tanti strumenti per imporre a Silvano Moffa, Enrico La Loggia, non dico a Silvio Berlusconi che non c'è nulla che gli possa imporre, è autarchico, è monarchico, ma non abbiamo strumenti. O c'è una capacità della classe dirigente di tirare la consapevolezza a questo livello, oppure bisogna andare a votare e noi alle elezioni ci presenteremo come terzo polo con questa proposta, proprio perché non pensiamo, l'ho già detto per rispondere alla sua domanda, che nella destra, che nella sinistra, è in questa fase. Domani vedremo se riusciremo a costruire un bipolarismo accettabile di livello vero occidentale. Ma non pensa che gli italiani questo bipolarismo l'abbiano assorbito in qualche modo? Ma il bipolarismo, non abbiamo niente contro il bipolarismo. Bisogna che ci siano dei poli, bisogna che ci siano dei partiti, bisogna che ci siano dei progetti politici, altrimenti è, come ho detto io, una guerra civile. Mi permetta di dire però una cosa a Salvini. Salvini, se non ho capito male, ma mi corregge se io ho capito male, sostiene che la Lega ha perso voti perché ha donato il sangue a Catania. Vedi Salvini, se tu sei convinto di questo, io lo dico davvero amichevolmente, guarda che sbagli. Guarda che non è che non vi votano più per questo, non vi votano più perché avete seguito l'imperatore, oltre ogni limite, l'avete seguito anche quando il degrado morale era così visibile agli occhi dei cittadini del nord e non vi votano più, lo ripeto è una mia analisi, può darsi che mi sbaglio, e non vi votano più perché la rivoluzione liberale, le grandi riforme di modernizzazione, il cambiamento del modo di ragionare della politica, le infrastrutture, la deburocratizzazione del paese non è avvenuta e voi non potete più dire, io non c'entro. Cioè ne dice neanche la Lega ha intercettato i bisogni. Allora in questo senso dicevo, se ho dato questa impressione, me ne scuso, non voglio celebrare nessun funerale, io dico che a Pontida voi dovete decidere se proseguire, sia pure alzando la voce, sia pure chiedendo cose che poi purtroppo non si ottengono, a proseguire in questa operazione politica di alleanza con Berlusconi fino alla morte, oppure se volete cominciare a ragionare di una svolta politica nel paese. Questo è il punto secondo me che attende voi. Noi non facciamo il tifo né per una cosa né per l'altra, noi diciamo guardate che in questo modo la Lega può avere un futuro in una svolta politica che i cittadini stanno chiedendo e viceversa vi condannate a gestire la fase del tramonto della vostra operazione che noi non guardiamo con felicità perché noi abbiamo anche noi in una certa fase politica creduto alla possibilità che il centrodestra riformasse questo paese. Purtroppo ci siamo dovuti arrendere alla circostanza che si tratta solo di una formazione che segue i voleri dell'imperatore anche quando questi voleri vanno oltre gli interessi nazionali e persino gli interessi dei partiti che compongono l'alleanza. Salvini adesso vengo da lei, c'era un attimo moffa che credo volessi intervenire. No, volevo soltanto dire che mi sembra un po' azzardato questa analisi del voto anticipato come elemento salvifico per la nostra democrazia. Io comprendo che stando all'opposizione lo si possa giustificare una richiesta ripetuta. Orlando poco fa ha avuto un piccolo incidente di percorso, ha detto che loro chiedono le dimissioni di Berlusconi dal 2008, esattamente dal giorno dopo in cui gli italiani hanno dato. Questa è un'interpretazione singolare della democrazia, nel senso che se c'è un consenso il giorno dopo chi ha ottenuto quel consenso si deve fare da parte. Quindi mi sembra francamente che una interpretazione di questo genere non aiuti. Questo dovrebbe evitare che qualcuno pensi che noi abbiamo qualche debolezza nei confronti di Berlusconi. Ma guarda, il problema non è di debolezza. Lo diremo sempre. Il problema non è di debolezza. Adesso siamo in compagnia, prima eravamo un po' più isolati. Orlando, io facevo un ragionamento molto diverso che riguardava il senso della democrazia in questo Paese. Però voglio dire per carità, ognuno poi è libero di pensarla come vuole. Quello che vorrei dire ad Adornato è questo. Se siamo tutti coscienti del fatto che il Paese vive un momento di grande difficoltà e io credo che gli italiani, al di là dello stesso merito di alcune questioni referendarie, abbiano voluto esprimere uno stato di sofferenza oggettiva che a mio avviso non nasce tanto dagli elementi che pure hanno turbato negli ultimi tempi e anche da un punto di vista di esposizione massimediale le coscienze. Ma penso che riguardi soprattutto il fattore economico, la situazione di debolezza in cui si trova il nostro sistema economico. Per tanti problemi, alcuni sono stati richiamati poco fa dalla loggia, che riguardano la crisi complessiva nella quale il nostro Paese è stato anche indotto anche per non responsabilità dirette. Se oggi dobbiamo uscire da questa fase e quindi avviare una fase che ci accompagna alla fine della legislatura in maniera che si possano mettere in campo delle politiche economiche efficace e quindi vedere qual è l'ambito entro il quale noi possiamo coniugare il rigore, il mantenimento della saldezza dei conti pubblici con la capacità di incidere nell'economia, eliminando gli sprechi, riducendo la burocrazia che soffoca terribilmente questo nostro Paese, che impedisce anche a quegli enti virtuosi di poter portare avanti i loro progetti, intervenendo sul patto di stabilità. Io voglio ricordare una cosa importantissima, c'è stata una fase, tra l'altro se non ricordo male era il periodo del governo Prodi, in cui sotto la pressione degli enti locali, in particolare dei comuni delle province, si andò a ritoccare in parte il patto di stabilità per una quota specifica che potesse in qualche modo aiutare soprattutto gli enti locali nell'intervenire per la messa a norma delle scuole. Io credo che ancora questo elemento si possa riconsiderare e a proposito dell'Europa, di cui tutti in qualche modo illustriamo i contorni positivi dimenticando che questa è un'Europa che ancora non ha un'anima politica e di qui nascono tante difficoltà anche per il nostro Paese. Beh, per quanto riguarda le missioni internazionali io non credo che si possano oggi mettere in discussioni le nostre missioni internazionali, però pongo un problema. Non tutti i Paesi in Europa partecipano, la stessa guisa dell'Italia e con gli stessi oneri dell'Italia alle missioni internazionali. E allora perché non considerare quella quota aggiuntiva che noi paghiamo per gli altri Paesi come un elemento sul quale evidentemente liberare il vincolo e consentire quindi di poter avere anche lì un sacrificio in più in quello, ci venga riconosciuto e ci allentino dei vincoli. Questo senza mettere in discussione quelle che sono le nostre missioni internazionali. Certo. Salvini, vengo da lei se vuole replicare, ma le faccio anche una domanda. Perché non avete espresso nessun tipo di solidarietà col sottosegretario Letta, l'ambito da questa inchiesta sulla P4? L'ha fatto Casini con parole molto nette, l'ha fatto per il Partito Democratico, mi pare, l'onorevole Follini, ma la Lega ha tasciuto? Guardi, non conosco la vicenda, ne ho letto sommariamente sui giornali, ho visto che è un'inchiesta che parte dal PM Woodcock. Da Napoli? No, il PM è quello, se non ricordo male, di tante inchieste sulle veline, sulle ballerine, quindi non lo so, non mi permetto di dare giudizi né a favore né contro, siamo tutti innocenti fino a prova contraria, però non giudico ciò che non conosco tendenzialmente. E poi sul resto, guardi, a parte il fatto che 15 giorni fa, se vogliamo parlare come si faceva nel politicamente corretto, in termini di sindaci la Lega è cresciuta. Non so se do una notizia sconcertante, abbiamo perso in città importanti, a Milano, a Bologna, a Novara, a Trieste, in termini di uomini, di sindaci, di consiglieri, anche di voti, ad esempio a Milano la Lega è cresciuta, però detto questo non sto qua a dire che stiamo vincendo, ma non c'è neanche la debacle, il tracollo. Certo, la nostra gente ci chiede, non so se, avete visto il titolo dell'apertura, il Corriere della Sera di oggi. Un elettore della Lega prende il Corriere della Sera di oggi e c'è la classifica di chi paga più tasse in Italia e chi ne paga meno. Le prime quattro città per pagamentire, sono Milano, Bergamo, Monza e Pavia, sono quattro città lombarde. Ora, milanesi, bergamaschi, monzesi e pavesi mi dicono, noi siamo i quattro, stando alle statistiche, che paghiamo più tasse in Italia, perché paghiamo tutte queste tasse? È un piccolo ruolo, c'è la Catania, c'è la Roma, c'è la Taranto, c'è la Napoli, c'è la Palermo. È chiaro che uno non gode nel pagare più tasse di tutto il resto d'Italia per poi vederle vanificare lì. Certo, ci sono altri problemi. Non abbiamo l'incuvo di Berlusconi, non abbiamo l'innamoramento folle e cieco, a prescindere da tutto e da tutti di Berlusconi, è un rapporto di interesse. C'è gente che senza Berlusconi dovrebbe evidentemente cambiare il mestiere, sia in politica che nel giornalismo, che nella satira, perché togli Berlusconi la scena politica italiana, c'è metà della gente che parla in televisione e che non ha più l'argomento di cui parlare. Non penso sia il caso della Lega, non ci siamo legati mani e piedi e occhi bendati a Berlusconi nel nome del Dio Supremo, è un rapporto di interesse con un programma elettorale con cui fare le riforme. E non è il diavolo incarnato in una persona a prescindere dal quale non si può dire o fare nulla. Evidentemente ormai c'è un problema, c'è un problema di presenza, c'è un problema di immagine, questo è fuori dubbio, è fuori discussione, è sotto gli occhi di tutti, però fino a che c'è qualcuno, e lo dico all'UDC, lo dico all'Italia dei Valori, che ragiona a partire da Berlusconi, e allora poi non mi si venga a raccontare la barzelletta che si fa all'interesse del Paese. C'è un rapporto di interesse chiaro, evidente, trasparente, non ci sono fidanzamenti o robe del genere. Vorrei dire a Salvini, perché se è apparso così vorrei correggere subito, che il mio non era nessun De Profundis nei confronti della Lega, e io anzi ho grandissimo rispetto non solo per gli elettori, perché comunque sono elettori di un partito che rappresenta una quota rilevante, ma anche per quelle che sono manifestazioni che a mio avviso dimostrano una vivacità che sarebbe molto utile, sono d'accordissimo con lui, riprendesse insieme a Web, a quello che significa, tutto quello che vogliamo, ma ci sono delle cose che poi danno anche la possibilità di verificare quanto un partito politico sia effettivamente in grado di mettersi in sintonia dai propri elettori. Quindi non criticavo né la... Dicevo semplicemente che, e a mio avviso questa è una cosa sulla quale facilmente si può condividere, è che io penso che sia la prima volta nella quale la Lega si trova a misurarsi con una effervescenza, protesta, critica, quello che vuoi, di un impianto e di una politica che è stata portata avanti, in modo così evidente ed esplicito. La prima evidenza diventa il fatto che al di là dei sindaci che avete vinto e al di là del fatto che potete non avere perso tanto, nei vostri auspici c'era sicuramente di guadagnare in queste elezioni, e quindi se c'è stato un fermo non è perché qualcuno... Perché evidentemente nel popolo vostro c'è questo tipo di sofferenza, quindi io semplicemente analizzavo questo, anzi forse proprio... E dicevo che ovviamente di fronte a questo secondo me non si può cincischiare, cioè è la mia opinione, ovviamente si deve prendere una decisione che corrisponda a questo. Detto questo, patto di stabilità dei comuni, siccome tu hai esordito dicendo che una delle cose che assolutamente in questo momento devono essere fatte è quella di liberare i comuni virtuosi dal vincolo del patto di stabilità, io mi sono riagganciato a quello per dirti che io pure penso che sia una cosa necessaria e che l'abbiamo sempre pensato. Ora però è anche vero che non è che se noi diciamo che dobbiamo in positivo sbloccare, perché poi sbloccare il patto di stabilità di alcuni comuni virtuosi, invece si fa anche creare la crescita, perché poi parliamo di crescita, parliamo di crescita, bisogna anche capire quali sono gli strumenti nei dati che abbiamo di fronte per metterla in modo questa crescita a qualche parte. Non corrisponde da parte mia al fatto di dire che vabbè, quelli fanno così e gli altri chi se ne frega. No, tant'è che la ragione originaria del federalismo, che a me convince, è quella di responsabilizzare le amministrazioni, che però non è la gente, Salvini, perché io sono convinto che al Sud la gente la pensa esattamente come al Nord sull'esigenza che le amministrazioni funzionino e che ci siano risparmi, perché le prime vittime di quei sacrifici e di quelle cose sono i cittadini del Sud che vogliono la stessa identica efficienza. Volevo solo dire, Salvini, volevo solo dire che per esempio, scusami, quando noi, voi, avete utilizzato ripetutamente i fondi FAS, che adesso non stiamo a dire che cosa sono, ma sono dei fondi dati per le aree sottosviluppate, che riguardano soprattutto il Sud, per fare le coperture di tutto e di più, tranne che delle cose per il Sud, lì voi incidete in un modo... Ma non li usavano. No, non è vero che non li usavano, non è vero. Avete tolto delle coperture, avete dato delle coperture. Non è così, Salvini. Io devo andare dalla loggia, sei una battuta, sì, Orlando. Soltanto per ricordare, i cittadini del Sud come del Nord vorrebbero da una parte essere aiutati allo Stato centrale, dall'altra parte vedere cacciati gli amministratori spreconi, invece a Catania, in altre realtà, rimangono al loro posto quelli che hanno rubato o che hanno sprecato. E questo è l'assist, perché mi pare c'è il decreto sulle sanzioni adesso all'esame, o no? Penso che sia anche utile parlarne, perché credo che sia realmente poco noto fino a questo momento. Noi stiamo proprio esaminando in commissione, fino a ieri abbiamo fatto un interessantissimo lavoro, il decreto su premi e sanzioni, che non varrà per il futuro. Certo, le leggi valgono dal giorno dopo che sono approvate, non possono valere per il passato, ma... Tranne a fare il decreto di legge, che siete bravissimi a fare, non vi conviene. No, varranno anche per stabilire un criterio. Allora, gli amministratori che continueranno a sprecare, e quindi vale anche per gli amministratori, come dire, in carica, e quindi da questo punto di vista anche per il passato, ovviamente, bene, avranno sanzioni gravissime, che vanno dallo scioglimento del Consiglio, al commissariamento del Comune, alla incandidabilità a qualunque carica pubblica, o in qualsiasi società a prevalente capitale pubblico. Dico questo perché sia chiaro, perché il federalismo, per quanto ben costruito, non potrà mai funzionare, e qui citerei Carnelutti, voglio dire, padre del diritto italiano, e quello che dice che anche la regola, scritta meglio, se non c'è una sanzione che induce la gente a rispettarla, vale per tutte cose. Ancora questo conflitto di interesse... Allora, ma non l'introduciamo così, in realtà, questo, perché abbiamo a sufficienza. Carnelutti non parlavano soltanto del federalismo. Dico, c'è una legge già che lo regola il conflitto di interesse, finiamo la costa sola. Andiamo invece ai comuni, ma che non solo ai comuni, perché questo varrà anche per le amministrazioni provinciali, anche per le regioni, con un monitoraggio continuo, fatto non dalla qualsiasi società di certificazione, ma fatto dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che credo dovrebbe essere riconosciuta da tutti come organo, non solo superparters, ma realmente competente e affidabile. Quindi, sono d'accordo quando si dice che i primi, anzi, l'ho sempre sostenuto io, forse tra i primi, che i propri cittadini del Sud saranno quelli che se ne vantaggeranno di più. Certo, avranno da temere da queste norme tutti gli amministratori che chiamare spreconi è un fortissimo... È un eufemismo, diciamo. È un eufemismo, perché è evidente che tutto questo non potrà continuare. Con riferimento al patto di stabilità, ma pure di questo ci occupiamo, anche se solo dal punto di vista normativo, nel decreto premi e sanzioni. Perché chi non rispetterà il patto di stabilità subirà un aggravante ulteriore delle sanzioni, mentre chi lo rispetterà, e addirittura dovesse essere talmente virtuoso da fare ancora meglio, avrà un premio. Quindi ci sarà anche un riconoscimento da parte dei cittadini, oltre che dall'ordinamento generale, nei confronti di chi amministrerà meglio. Ora, tutto questo non è un sogno, è una cosa che stiamo costruendo in questi giorni. Non faccio le previsioni azzardate se dico che entro luglio questo decreto diventerà legge, e quindi tutti saranno costretti ad applicarlo. Molti con piacere, perché darà sicuramente grandi benefici. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa, però, rapidamente. si faceva riferimento ad un cambio di direggenza politica ad Ornato. Io sono assolutamente d'accordo. E questo non necessariamente deve essere fatto, come dire, con le candidature alle prossime elezioni politiche. Si può cominciare pure da subito. Il PDL ha iniziato. È stato indicato un segretario politico, sino ad ora, come è noto, non ce l'avevamo. Nella persona di Angelino Alfano, che è tra le persone migliori, secondo me, il giovane più promettente. Scusate, la interrompo solo un attimo, perché so che Salvini deve andare via, mi pare, no? Salvini? Sì, ma su questo argomento... Eh no, sì, sì, ci torniamo, però Salvini credo che debba andare via. E c'è Orlando che ha da farle una domanda, Salvini, prima che lei vada via. Prego. Abbiamo una riunione con Pisapia. Eh, appunto. Bene, allora, a proposito di sindaci eletti, quindi noi ci complimentiamo ovviamente per i minanesi che hanno scelto Pisapia e con i napoletiani che hanno scelto De Magistris. Posso fare una domanda? Ma se anziché sei eletto De Magistris, sei eletto Lettieri, vi comportavate allo stesso modo nei confronti di Napoli? Ecco, io vorrei che voi non dimenticate il fatto che De Magistris è sindaco di Napoli e me da tutti rispetto che merita ancorché non vi piace che sia stato eletto. Sentiamo la risposta, Salvini. Per me a Napoli potevano eleggere anche Babbo Natale, mi interessa che risolva i problemi, per me è onestamente la risposta. Per serietà, visto che c'è un problema dei rifiuti, io faccio gli auguri ai napoletani che hanno votato e che spero non abbiano la monnezza fino al naso. Per serietà, se la prima dichiarazione del sindaco che ha il problema dei rifiuti è non faccio il termo valorizzatore, io da milanese o da napoletano mi domando o ha scoperto come si moltiplicano i pani e i pesci o ha deciso che li manda su Saturno oppure rischia di esserci un piccolissimo problema. E io dico, avesse vinto anche la destra che non pretendessero di mandare più un solo chilo di spazzatura fuori da Napoli se non se li bruciano. La Lombardia, Orlando, ha 13 termo valorizzatore. 13, non uno, 13. Ora, il nuovo sindaco di Napoli farà i miracoli e i rifiuti, non so, li fa sparire sotto i tappeti. Va bene, non mandateli a noi. esaminate con attenzione senza pregiudizi il programma organico che De Magistris vi ha presentato. Ma io gli faccio che ti rissi o no. Insomma, se Salvini vuole fare consulente di De Magistris l'incarico è a disposizione. Allora, Salvini, non so se vuole aggiungere una cosa così la salutiamo perché adesso fra un attimo c'è la pubblicità. Posso solo invitare chi non c'è mai stato a venire domenica a Pontida perché un conto sono le immagini televisive del TG7 di Gad Lerner un conto è viverla in mezzo alla gente ed è tutta un'altra cosa e poi visto che si parla di rete chi non ci potrà essere la segue su Facebook e lo facciamo volentieri. Senta, sul mattino oggi c'è scritto lo scrive Alessandro Campi che il primo militante leghista Michele Novarina di 60 anni idraulico torinese è arrivato già a Pontida con tre giorni d'anticipo sul discorso di Bossi. Grazie Salvini. Grazie a voi. Ciao. della loggia sul partito diceva il primo luglio c'è un appuntamento importante c'è un appuntamento importante sarà eletto segretario politico Angelino Alfano Che maggioranza ci vuole per cambiare lo statuto ed eleggerlo segretario? No, occorrerà che sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale Cioè, quanti sono? Sono circa mille quindi non mi pare una cosa talmente complicata è una cosa veramente formale Non è che c'è qualche mugugno di troppo e c'è qualche rischio No, l'unico rischio è che ci possano essere delle resistenze come può capitare in qualunque altro partito ma il messaggio chiaro che noi stiamo dando è quello che forse anziché bloccarlo il turnover bisognerebbe agevolare il turnover e che quindi se indeterminati incarichi ascoltiamo i nostri elettori e indichiamo anzi ascoltiamo le indicazioni che vengono io credo che faremmo una bella cosa sia a livello locale ovviamente come a livello nazionale e se questo è un modello serio da seguire e io credo che sia questo il modello da seguire forse se lo facessero anche gli altri partiti non farebbero male pubblicità pubblicità grazie allora un errore dell'ologio diciamo ci ha raccontato la roadmap diciamo per diciamo la carica di segretario per Alfano ma primarie sì primarie no ma innanzitutto noi vogliamo che si facciano dei congressi come dire veri e che quindi non preconfezionati quindi a partire dai comuni alle province alle regioni ci sia la partecipazione dei cittadini anche con le primarie non vedrei niente di straordinario l'unica cosa sulla quale obiettivamente per la natura stessa del nostro partito le primarie sono difficili da immaginare è sino a quando Berlusconi sarà presidente del partito e soprattutto presidente del consiglio voglio dire credo che nessuno in Italia immaginerebbe di fare l'azzardo di candidarsi contro di lui quindi sino a quando c'è questa situazione è ovvio che le primarie a livello di vertice non le faremo ma a qualunque altro livello sì e soprattutto riprendendo il discorso di prima attraverso un forte turnover della dirigenza politica che non è soltanto un fatto che riguarda il PDL è anche un contributo forte a rafforzare l'azione di governo è a rilanciarla sia a livello locale sia a livello nazionale Adonato guardi noi viviamo il tramonto del bipolarismo così in questo bipolarismo non in sé e del tramonto del modello del partito carismatico che ha incarnato Berlusconi e che ha rappresentato gran parte della storia della seconda repubblica noi devo dirlo questo rinunciando alla modestia ma è la verità nel 2008 già come unione di centro come dice abbiamo detto che questo sarebbe avvenuto e noi in prima fila e poi adesso il terzo polo nasce per offrire un esito non traumatico come è successo negli anni 90 alla fine di questo sistema e anche per dare un esito a quei moderati che si sono riformisti che si sono trovati nell'idea berlusconiana che all'inizio sembrava convincente ma che via via è andata degenerando per offrire un esito non traumatico non lasciare quel vuoto di rappresentanza che si era creato alla fine della prima repubblica quindi noi abbiamo costruito il terzo polo anche per essere sponda di tutti coloro che all'interno del PDL così come è avvenuto anche all'interno del PD facciano un ragionamento di superamento del partito carismatico che ha trovato anche scimmiottamenti a sinistra alla sinistra ha avuto anche degli anticorpi però perché aveva una tradizione diversa da quella che poi Berlusconi rappresentava qui però è fallito questo modello di partito che ha riguardato destra e sinistra è finita l'idea che un uomo solo al comando sia esso di centro di destra o di sinistra possa rappresentare la soluzione tutta la modernità parla nelle banche nell'industria nelle comunità e perché non nella politica nella rete e perché non nella politica di gioco di squadra si apre l'era del gioco di squadra e credo che i partiti che corrisponderanno e di classe dirigente unita i partiti che corrisponderanno a questa immagine avranno più successo ma soprattutto avrà più successo l'Italia perché attraverso questa novità questo superamento della seconda repubblica del partito carismatico si potrà meglio corrispondere ai bisogni dei cittadini a proposito di primarie Giacchetti scrive oggi la Iena sulla stampa la nomina di Alza Wairia nuovo capo di Al Qaeda ha provocato una vibrata protesta di vendola non hanno fatto le primarie è carina farse le battute diciamo quello che diciamo il panorama politico del centro-destra scopre adesso per noi è una cosa anche ormai vecchia nel senso ormai ci siamo abituati ovviamente vedremo soprattutto all'interno del partito nella selezione della classe dirigente questo avviene per noi non è una novità vorrei invece dire una cosa però rispetto ai partiti quando io all'inizio ho detto che quello che è accaduto nelle amministrative ma soprattutto e anche nel referendum deve essere un segnale per tutti i partiti non soltanto per il centro-destra ecco io penso che da lì emerge un fatto decisivo per i partiti cioè o noi siamo in grado e io spero che il partito democratico in questo sia come dire testa da riete di interpretare quello che è accaduto lì dentro che è sicuramente anche una forma alternativa di informazione ma anche un modo di interagire con i partiti e se i partiti non rispondono ad agire in modo concreto cosa che prima magari non poteva accadere per come dire imporre ai partiti di muoversi in ragione di quelli che sono interessi reali del paese se noi non lo intercettiamo adesso e secondo me abbiamo gli strumenti come dire migliori per farlo se non lo intercettiamo adesso quello quello rischia di diventare qualcosa che entra diciamo nell'immaginario di un disinteresse di un scoramento di un avvilimento che invece sono energie grandissime che noi in questo momento dobbiamo assolutamente interpretare un minuto moffo un minuto orlando ma guardi se parliamo di primarie io voglio ricordare che storicamente il primo partito a fare le primarie in Italia fu alleanza nazionale lo fece nel 98 quando ebbe come dire l'onore di guidare come dire il percorso elettorale per la provincia di Roma io sono assolutamente convinto che le primarie debbano esserci però nello stesso tempo aggiungo a ragione adornato la crisi della politica nasce anche dal fatto che in qualche modo abbiamo tutti ritenuto che delegando la leadership e alla leadership la soluzione di tutti i problemi politici risolvessimo anche i problemi della politica io credo che si è esaurita questa fase e questo comporta un ripensamento da parte di tutti i partiti politici da parte di tutte le opzioni politiche io personalmente sono perché per esempio se arrivi a una configurazione di un partito aperto che tenga conto anche della democrazia telematica e che selezioni le classi dirigenti attraverso processi che siano processi trasparenti ma di formazione concreta quindi perché non parlare per esempio del riconoscimento giuridico dei partiti e incominciare a tutelare anche gli iscritti nei partiti attraverso il diritto civile che mi sembra una cosa estremamente importante che introduciamo in chiusura Orlando primarie senza sé senza ma in un paese nel quale gli elettori non possono neanche scegliere per una legge vergogna e per liste bloccati per parlamentari primarie senza sé senza ma però francamente è un poco singolare abbiamo introdotto la categoria delle primarie ad personam se le primarie valgono per tutti tranne che se il candidato è Belusconi ora francamente mi sembra una violazione della normale democrazia che è partecipazione che è rispetto ovviamente di tutti non esistono i candidati naturali in democrazia in democrazia ci si confronta col consenso ed è per questo che noi stiamo costruendo come Italia dei Valori come Italia dei Valori stiamo costruendo stiamo costruendo e è per questo come stiamo costruendo come Italia dei Valori non le primarie soltanto ma una proposta di governo in un sistema bipolare con proposte concrete di governo senza esclusioni ma che siano assolutamente chiare per evitare che sia tutto il suo contrario e sulla base di queste proposte e della coalizione si sceglierà con le primarie il premier grazie allora grazie ai nostri ospiti grazie a tutti voi omnibus torno ovviamente domani mattina adesso coffee break oggi a differenza di quanto avevo detto annunciato ieri ma mi ero sbagliato oggi si parla di precari partendo appunto dall'episodio del ministro Brunetta grazie e buon proseguimento di giornata grazie grazie a tutti